ciao per te ciao sore c'è un'altra storia dei vips da raccontarvi allora anni fa è successo tanti anni fa eravamo pischelli io e ivano il proprietario dello studio tattoo x spirit tattoo a giulia agricola e un altro studio c'è la pumezia siamo andati al concerto tanto ne lo vendetti questa è una cosa poco strana e questa è quasi da non crede se non c'è vestiti e prove alla marco certo tanto ne lo vendetti finisce il concerto dico io volevo andare a vedere un attimo dietro i spalti qui dietro che che cavolo succede il cavolo c'è sta alla pia e andiamo c'era per entrano per entrano verso i spalti verso le come si chiamano i porcocane dove andate prescia però gli spogliatoi gli spogliatoi dove si fanno le festicciole dopo il concerto no allora prima di arrivare a quel posto a quella quelle porte la come chiamamole così c'era una ringhiera e un butta fuori allora io dico ivano che dico al butta fuori lui sta con me andiamo sto butta fuori ha pensato vedendomi così sicuro andiamo io va lui sta con me gli dico al butta fuori e poi mi fa passare poi dopo andiamo avanti c'è sta un altro un'altra come cavolo si chiama un'altro queste cose di ferro per non poter passare no e c'era un altro butta fuori un altro butta fuori uno da securitas allora io gli dico lui al butta fuori lui sta con me a ivano lui sta con me andiamo e e ci fa passare questo o se pensava che ero un chitarista uno da band non so che cazzo sa chi ero vabbè buona sostanza se ritrovamo davanti al camerino di antonello venditti allora che fanno vedo che entrava qualche persona qualche cosa eh piamo e imboccavo pure noi io ivano no imboccavo e se ritrovamo dentro la festicciola che faceva dopo il concerto antonello venditti e c'è stava d'imperio d'imperi c'è stava raffaella carrà c'è stava simona izzo che io oppure detto a simona io sono una brava persona cioè mani pulite faccio e lavapiatti ma fa conosci una di quei e ballerini che stanno là e lei non mi ricordo che mi ha detto comunque sia poi eh abbiamo mangiato dei dei pasticcini con antonello venditti il figlio e il nipote che poi con il nipote mi sono messo a giocare al carcio un barilla perché dentro alla stanza c'era il carcio un barilla e poi dopo mi sono avvicinato l'altro venditti gli ho detto se fanno una foto io tutto contento sorridente si è fatto sta foto insieme a me e poi ho fatto ci siamo fatte foto pure col figlio di antonello venditti e col nipote e il nipote troppo carino un faccione così troppo forte era e ci siamo fatti queste foto e dopo un pochetto arriva uno e uno dà la camera non so che cavolo era e ci fa abbiamo dovete sci però cioè noi eravamo l'unici non vip in mezzo a un branco di vip poche parole sto mo ci dice abbiamo dovete sci siamo usciti insomma stracontenti il giorno dopo io a ripensarci cazzo dentro dentro al camerino dove c'era la festicciola del dopo concerto con antonello venditti se siamo fatti le foto e tutto quanto mo sta storia come quella di righeira sembrerà incredibile perché dice come cazzo hai fatto entra dentro al camerino di antonello venditti dopo il concerto come cazzo hai fatto però se volete sincerarvi di questa cosa andate sul profilo mio youtube sulle foto andate avanti e troverete le foto mia contro con l'antonello venditti col nipote di antonello venditti una foto con l'imperio di imperi che poi ho telefonato a mia madre che è fissata con l'imperio di imperi io ho telefonato a mia madre ma ti passa una persona e gli ho dato al telefono al t'imperio di imperi e di per di peri signora sono t'imperio di vabbè gli ha detto il nome ma mia madre era mezzanotte era tutta rincoglionita e non ci ha capito niente e allora l'imperio che ho fatto senta signora ci vediamo domani a a rai 1 la trasmissione della mattina no e mi padre in buona sostanza non ci ha capito niente e il giorno dopo ha rosicato perché ci ha potuto parlare vabbè comunque sia la storia sembra incredibile come quella di righiera ma andate a vedere su youtube su facebook le foto mia e e vede tutte le foto di antonello venditti il figlio il nipote e t'imperio di imperi e no con l'altro me ne sono fatte le foto ci sono scappate vabbè ciao frate ciao sorella un abbraccio forte forte bacio